Beh, allora è chiaro, mi sembra, perché non accettiamo inviti, collaborazioni, mediazioni, alleanze. Il motivo è uno ed è numeroso. Il Movimento 5 Stelle è onesto ed è fatto da persone oneste, per cui non possiamo collaborare. E da persone libere come gli artisti, come noi insomma speriamo di essere, di portare la cultura, secondo me il binomio perfetto è onestà e cultura, perché la cultura aiuta a sapere, a capire, a aumentare un senso critico nei confronti delle cose che ci vengono dette. Se noi non sappiamo niente, ci possono dire quello che vogliono. E la cultura è, signora, la libertà, con il cuore, la libertà vera, la libertà di pensiero, di azione, la libertà di vivere in un mondo di pace e di giustizia. Possiamo cominciare? Sì.